Alessandro Bono presenta la partita in trasferta contro la Casertana, che gara ti aspetti? Sicuramente una gara complicata, difficile, loro sono un'ottima squadra costruita per ambire sicuramente a traguardi importanti. Noi andremo lì con grande umiltà, come del resto dovremo fare sempre, penso che debba essere un po' la nostra prerogativa quest'anno e proveremo a imporre il nostro gioco, proveremo a fare ciò che abbiamo provato in settimana con serenità e tranquillità nella speranza di tirare fuori il più possibile questa partita. Quali potrebbero essere le insidi di questa partita? Allora sono molto bravi in mezzo al campo, sono molto bravi davanti, hanno giocatori di esperienza, quale Raice dice per esempio in mezzo al campo che penso che detti molto i tempi di gioco. Noi abbiamo provato in settimana determinate cose e speriamo di riuscire a metterle in pratica. L'Akragas non subisce gol da 180 minuti a due partite, un bel risultato? Sì, io spero che questo sia un punto di partenza, un punto che ci dia sicuramente un po' più di consapevolezza anche nei nostri mezzi. Stiamo giorno per giorno migliorando sempre di più e mi auguro che questa consapevolezza ci porti sempre di più a sbagliar meno e a costruire quella corazzata che ci servirà poi per raggiungere la salvezza.